Mark Marquez, la grande occasione 2, ecco dopo la strepitosa vittoria di Aragon, vittoria nella sprint, vittoria in gara, pole position, insomma dopo il dominio assoluto di Aragon, ecco che Mark Marquez è molto, molto competitivo anche a Misano. Allora ad Aragon sappiamo tutti cosa è successo, sappiamo anche i motivi per cui Mark Marquez è riuscito a fare una grandissima differenza, i problemi sull'asfalto, i problemi di grip, la capacità, la sua grande capacità di adattarsi, ecco in quel caso la differenza tra GP23 e GP24 è stata annullata, è stata annullata da Marquez naturalmente, ma io credo che ci sia una grande occasione per Mark Marquez anche su questa pista, su questa pista di Misano dove il grip è invece al massimo livello. E allora perché dico che Mark Marquez è una grande occasione? È una grande occasione perché a me è impressionato come fin dal primo giro Mark Marquez si sia trovato perfettamente a suo agio con la Ducati e con la pista di Misano, non ha mai fatto fatica a fare i tempi, è sempre stato competitivo, i tempi gli vengono facili, non fa sbagli, un po' come è successo ad Aragon, l'abbiamo visto guidare in tutta sicurezza, in grandissima sicurezza, ecco qui sta facendo lo stesso, non ha fatto una sbavatura, non ha fatto un gritto, non ha perso una volta l'anteriore, non ha perso una volta il posteriore, insomma è un Mark Marquez che va fortissimo senza apparentemente prendere rischi. Vanno fortissimo però anche altri piloti, in particolare Bagnaia che è primo in classifica e Martin che è terzo. A differenza però di Marquez per vari motivi, Bagnaia e Martin sono arrivati ad essere veloci dopo un po' di giri, ci hanno messo un po' a prendere il ritmo, hanno impiegato un po' di tempo a prendere confidenza e fiducia con la moto, con la pista, con le gomme. Ecco per me questa differenza è importante da sottolineare, Mark Marquez ci è arrivato subito, i suoi avversari ci sono arrivati seguendo percorsi un pochino più complicati, sembrano un pochino più impiccati e poi ci sono altre due considerazioni da fare. La prima è che Bagnaia non sta bene fisicamente, io devo dire che l'ho trovato in condizioni peggiori rispetto alle mie aspettative, pensavo di trovarlo ieri in perfetta forma fisica, invece non è così, non sta bene, ma Bagnaia è dovuto ricorrere agli antidolorifici, non li ha presi durante il turno della mattina, ha dovuto prenderli nel turno del pomeriggio, però è un Bagnaia che è visibilmente sofferente, non è il 100% della forma. Ecco, in questo caso forse, senza forse, è giusto sottolineare che Bagnaia potrebbe risentire dei problemi fisici in conseguenza della caduta ad Aragon, perché come passa è messo piuttosto bene, ha in mano la moto dopo un inizio molto difficile, però ha ritrovato fiducia, però non è un Bagnaia al meglio della condizione. Anche Orge Martin ha sofferto per altri tipi di problemi, problemi di stomaco, insomma qualche problema da quel punto di vista, però dopo ha ritrovato una buona forma, ma lui ha faticato di più a trovare fiducia con la gomma soffice al posteriore. Allora, adesso andiamo a vedere l'analisi dei passi, è vero che qualcuno ha girato con la media posteriore, qualche di un altro ha girato con la soffice, però secondo me è giusto fare delle considerazioni. Allora, cominciamo da Pecco Bagnaia, vado a togliere la scritta perché sennò si perde un pezzo. Allora, Pecco Bagnaia è entrato, parliamo del turno del pomeriggio, con gomme medie nuova anteriore, gomma media nuova posteriore. Allora, qua vedete la sequenza dei giri, ho tolto poi la sequenza finale, quella dove si è fatto l'attacco al tempo. 1.33.9, 1.32.5, 1.32.3, 1.32.1. In questa prima uscita Bagnaia evidentemente non era a posto. La seconda uscita è molto buona, 1.31.7, 1.31.5, 1.31.6. La seconda uscita è molto buona, mentre la terza uscita i tempi tornano prima a salire 1.32.0, 1.31.7. Comunque complessivamente nei cinque giri della seconda e della terza gira Bagnaia ha ottenuto un ottimo passo. Adesso andiamo a vedere Mark Marquez. Mark Marquez è entrato in pista con media nuova e soffice posteriore nuova. Quindi vediamo i giri 1.32.3, 1.31.8, 1.31.7. Poi la seconda uscita 1.34.0 evidentemente ha trovato traffico, 1.32.3 anche qui non è stato molto buono, 1.31.3 però molto buono per tornare 1.35.5 evidentemente anche in questo caso col traffico. Poi ha montato, ha tenuto la media anteriore usata e ha montato una media nuova posteriore, questi sono i tempi per la verità non eccezionali ma è un miglioramento con 32.6 e 31.7. Ecco però devo dire che il passo tenuto complessivamente da Mark Marquez è sicuramente molto buono. Più difficile capire per Org Martina che è partito come vedete media nuova e soffice nuova al posteriore, media nuova all'anteriore, la prima uscita i tempi sono piuttosto alti, poi andiamo a vedere nel proseguo della sessione 32.2, 31.9 i tempi cominciano a migliorare, 34.9, 31.6 quindi manca costanza ma la velocità c'è e poi ha continuato con questa soffice posteriore facendo un 1.31.579 al diciannovesimo giro. Ecco questo giro, poi vedete 1.31.7, quel giro precedente gli era stato cancellato perché evidentemente c'erano le bandiere gialle o è finito sul verde, ecco comunque io credo assolutamente che il suo sia un passo buono. Quello che colpisce però è che sia lui sia Gino Borsoria hanno sottolineato che in realtà con la gomma soffice al posteriore ha fatto fatica, però ripeto quel 31.5 al diciannovesimo giro è sicuramente un passaggio importante. Ecco quindi questi sono i tre passi gara dei tre protagonisti, però io credo che Marc Marquez abbia un piccolo vantaggio, ma sono effettivamente loro i tre piloti con il passo migliore, allora andiamo a vedere e andiamo a sentire cosa ha detto Bagnaglia riguardo a questo argomento. Sì, Marquez e Martín al momento, sono i due più forti, hanno due stili di guida in questa pista che sono abbastanza diversi anche rispetto al mio, ma alla fine è una pista molto completa il misano, quindi si combaciano abbastanza, c'è chi guadagna il T1, chi guadagna il T3 e chi è il T4, quindi siamo più o meno tutti lì e penso che noi tre al momento siamo quelli che vanno più forti. Sì, Marquez e Martín al momento. Ecco, questa è l'analisi di Pecco Bagnaglia che quindi conferma che sono loro tre quelli con il passo migliore. Ecco però, ripeto, considerando la facilità con cui Marquez ha fatto i tempi, l'entusiasmo che ha Marquez dopo il successo di Aragon, la sicurezza che ha acquistato, un'ulteriore sicurezza che ha acquistato Marquez dopo quel successo, considerando le difficoltà fisiche di Bagnaglia e qualche problema di gomme con Martín, io dico che Mark Marquez ha, dopo Aragon, un'altra grande occasione per salire sul gradino più alto del podio. E questa era la notizia in prima fila di oggi, io sono Lozano, vorrei sapere la vostra opinione. Grazie a tutti.